Sbam news! Quando due pessime notizie diventano una Maradona dopo il lifting torna in tv Ecco la versione ringiovanita anche troppo del pibe d'oro GOSH! Bianco è oro o nero è blu? Il vestito che fa impazzire è il web Sbam news! Quando due pessime notizie diventano una Prego dalla regia Maradona o Miss Patata Maradona o Ursula la strega del mare Ecco la foto che fa impazzire il web Comunque no, non è Maradona No, è Koso Koso come si chiama? Ehm... Foodie! La mascotte di Expo 2015 No?